Ciao a tutti, mi chiamo Anna Boccellino, abito a Latina, ma sono originaria della provincia di Napoli a Fragola e nel Medioevo si chiamava Fragola, era più bello se rimaneva questo nome, la mia città nativa. Amo cantare il canto mi ha sempre aiutata nei periodi depressivi della vita e allora era un rifugio per me, un rifugio, diciamo una terapia, una terapia che mi dava la forza di andare avanti. Adesso sto per cantare tutto al più di Patti Bravo, è una canzone molto impegnativa, lo riconosco, ma rispecchia un mio stato d'animo di tantissimi anni fa, ho tre figli maschi, tutti maggiorenni e sono accompagnata dal mio fidanzato, io dico sempre marito ma comunque sempre fidanzato perché è bello rimanere fidanzati per sempre. Io lavoro, il mio lavoro è quello di insegnare in una scuola primaria, quindi faccio la maestra a Latina e sono molto contenta di questo lavoro, stando a contatto con i bambini io non cresco mai, è bellissimo. Qualche volta penso di tornare da te e se non l'ho ancora fatto non è perché l'amore sia finito, io ti amo ancora e non l'ho fatto solo perché avevo paura di trovarti cambiato, sono sempre lo stesso, ma stasera ho deciso di tornare, sarò sempre qui ad ascoltarti, tutto al più, tutto al più, mi accoglierai, ti accoglierò, con la freddezza che, con quella freddezza, non hai avuto mai, ti aspetterò, e forse fingerai, non fingo mai, di non sapere il nome mio, magari parlerai, non parlerò, dandomi del lei, ascolterò, oppure tutt'al più, tutto al più, mi chiederai, cosa, quanti ragazzi ho avuto, non ci penso, dimenticando te, non è scherza con l'amore, non ha scherzato mai, tutt'al più, mi appenderai, e poi mi cazzerai, dicendomi che oramai, no, non ti interessa più, una ragazza che, perviva solamente, per divertirsi un po', e allora, almeno, andrò, e mi rincorrerai, per chiedermi perdono, e mi accarezzerai, ricorderai il mio nome, e quello che c'è stato, magari fosse vero, e magari fosse vero, tutto al più, cosa farai, ti troverò, mi farò, insieme a quella che, non è vero, ha preso il posto mio, nessuno prenderà il tuo posto, e allora, allora, e allora, mi avrei scritto una lettera, dicendomi, che mi fossi dimenticato il tuo nome, ma il tuo nome lo so, è Anna, è un nome indimenticabile, io sarò qua sempre ad aspettarti, ti aspetterò, ti aspetterò, e allora, mi rincorrerai, per chiedermi perdono, e mi accarezzerai, ricorderai il mio nome, e quello che c'è stato, magari fosse vero, e magari fosse vero, tutto al più, io ti aspetterò, ti troverò, insieme a quella che, non è vero, ha preso il posto mio, nessuno prenderà il tuo posto, e allora, cercami, e allora, basta? Un grande applauso per Anna Vocellino di Latina, brava Anna, vieni qua vicino a me, dammi questo microfono, ti do quest'altro microfono, hai cantato, interpretato, tutto al più di Patti Bravo, in dei momenti mi sembravi proprio quasi lei, se ti posso dire, ma tra l'altro, sai che qui, la tua spalla che ti accompagnava, mi sembrava un viso familiare, vabbè, allora, Anna, insomma, non si vede decisamente, perché tu sei davvero un tipo molto giovanile, però possiamo dirlo tranquillamente, che hai qualche anno in più della media dei nostri concorrenti soliti, e sappiamo che sei una maestra, posso dirlo, hai tre figli, posso dire anche questo, sono maggiorenni, i figli, sono maggiorenni, vabbè, potevamo anche non dirlo, questo, comunque, salutiamoli, come si chiamano questi ragazzi? Allora, saluto i miei figli, saluto i miei figli, Michele, un bacione, Giuseppe, e Vittorio, e Vittorio, la mamma mi vuole tantissimo bene, tre maschi, tre maschi, che bello, allora, insomma, possiamo dire che qui a Talents Today non c'è un'età per mettersi in discussione, tu come mai hai deciso così di buttarti, raccontaci un po', Allora, diciamo che è un'esperienza, cioè, è un'emozione repressa la mia, e che sto esternando in questo momento, quindi non si finisce, non bisogna mai smettere di sognare nella vita. Ma è molto bella questa cosa che dici, davvero, Anna. Allora, lascio la parola ai giurati, in questo caso penso una doppia, perché sia Elisabetta, Tino, insomma, chi vuole intervenire? Allora, incomincio, come cantante direi che non ho niente da dire, perché hai una buonissima tecnica, una bella voce, mi sei piaciuta all'inizio perché tu eri te stessa, dopo, come dice Rudy, sei diventata più pattipravo, non devi cadere nell'imitazione, secondo me puoi benissimo essere te stessa, perché hai una bella personalità. E poi vorrei coinvolgere anche Radis e Tina e anche Franco, perché secondo me... A me piace il fatto che ha dei figli maggiorenni, e ancora sogna, ancora guarda avanti, ancora vuole fare delle cose. La cosa brutta delle persone è quando dico, ma ormai la mia età, quello è negativo. Io l'apprezzo moltissimo. Bravo, bravo, bellissime parole, bellissime parole. Radis, vuole dire qualche cosa anche lei? Sì, dico la verità, guardando lei mi sembra una... Scusa per la parola, no? Però è bellissimo, non voglio... Sì, non ho paura. Comunque, mi sembra una vecchia diva. Sì. Cosa voglio dire? Senso buono, lo sta dicendo, ovviamente. Cosa voglio dire? Che hai tutti gli elementi vocali, veramente, e anche di attitudine. A volte calchi molto, molto su magari l'espressione corporale, che secondo me non dovresti, visto che ci sono tipo certi modi da fare, e poi perché veramente la tua voce è di più di tutto quello che fai. Potresti anche stare solamente in questa posizione, che è bellissima, quando ti metti di profilo, poi perché anche hai un fisico molto bello ancora, per cui è cantare, e guarda, è sbalordire tutti, come lo hai fatto anche a me. È sempre attenta. Grazie, complimenti. La nostra giurata dice delle cose sempre giuste. Allora, Anna, come abbiamo fatto con gli altri, è il momento di lanciare il prossimo concorrente. Grazie.